Ciao a tutti, eccoci qua, oggi farò un piccolo unboxing, stavolta parleremo di videogiochi e parlerò di Kingdom Hearts, come potete vedere non ho la limite di niente volevo solo anticiparvi il fatto che farò un video apposito su Kingdom Hearts sempre se riesco ad aprirlo, volendo, tanto che sono da sola aspettate eccoci qua, io aprirò la scatola con una mano sola un po' difficile come vedete, questa versione di Kingdom Hearts comprende, penso il primo capitolo di Kingdom Hearts poi Kingdom Hearts Final Mix, come potete leggere, non si leggerà mai C9 Memories, che questo io non ci ho mai giocato perché mi sembra che era per PSP e 358-2 Days, che questo vi consiglio molto perché io ci ho giocato con il DS molto molto bello, come capito, quindi non vedo l'ora, come vedete c'è c'è anche un libricino, un libretto solito che non guarderò mai che se ho fatto così è un codice niente, questo è tutto ve lo anticipo, ecco, così magari si vede meglio ve lo anticipo che farò un video apposito su Kingdom Hearts alla prossima, ciao